È possibile giocare su Minecraft con un solo blocco? Beh, scopriamolo insieme! E come faccio ad andare avanti adesso? Scusate, cioè, c'ho soltanto un blocco! Che faccio? Mi butto! Vediamo se funziona, non ne sono sicuro, eh! Sto prendendo danno, ok, però forse... No, sono morto! E che faccio allora? Lo scavo? Scavo questo blocco qua? Ah! No! Geniale! Cioè, quindi tu puoi scavare tutti i blocchi che vuoi... Oh, aspetta, si è appena trasformato in legno! Ok, così allora io posso creare effettivamente la mia isolotta! Facciamo così, così e così! Dammi dell'altra legna, per favore, grazie mille, così posso farmi tutti quanti gli utensili! Ah! Perfetto, ci dà della... pure la pietra? No, vabbè, allora siamo proprio privilegiati! Facciamo così, allora, mi faccio subito una crafting table degli stichetti e creiamo un piccone! E mentre io faccio queste cose, voi lasciate un mi piace immediatamente a questo video! Vediamo di superare i 20.000 mi piace se volete una serie Skyblock! Perché io non porto una serie Skyblock da tantissimo tempo! Vi ricordate la prima Big Vanilla? Che è? Una cesta? Oh! 3 di Ossidiana! Eh... grazie! Molto, molto bene! Facciamo così! Eh... un'ascia, così almeno possiamo rompere la cesta! Bene! E ci dà la legna e ci serve anche un... Oh, cavolo, mi devo fare anche la pala! Quanti cose mi devo fare, utensili dappertutto! Ok, pala! Facciamo subito una pala al volo! Anche perché si sta facendo notte? Ma cosa... Cosa sono queste strutture? Sembrano tipo le case di app! Avete mai visto app con i beccaccini? Cerchiamo di prendere quanti più materiali possibili per creare una vera e propria base gigante! Oh! Oh! Oh, che paura! Che paura! Ma da dove cavolo sei uscito fuori tu? Fermo! Non morire! No! No! Non morire ho detto! Fermo qua! Sta fermo! Devo piazzare i blocchi! No! No! Io me l'ho affezionato! Perché tutto quello che tocco muore! Va bene, ragazzi, andiamo avanti! Perché a quanto pare questo è il blocco magico! Tu puoi scavarlo un miliardo di volte e ti darà sempre degli oggetti nuovi! Chissà quale sarà la prossima sorpresa! Oh! Una canna da zucchero! Che cavolo ci faccio? Cioè, io non faccio mica le farm! Che mi chiamo bella faccia, secondo voi, scusate! Pap, pap... No, 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 no! Ok! Stavo per rompere la cesta, ma c'era un'altra canna da zucchero da rompere! Quanti blocchi riuscirò a raccimolare per andare avanti? Non morire! Ferma! Ho bisogno di te! Mi serve del ferro, ragazzi! Devo poter prendere la lana di questa pecora per andare avanti, per poter dormire! Io ho paura che qua adesso spunteranno un miliardo di mostri! Bene, ragazzi, non ci ferma più nessuno! Chi ci ferma? Nessuno! Chi ci ferma? Nei commenti! Nessuno! Poi, tra l'altro, ho blocchi di legno di qualsiasi tipo! Ma sai cosa? Tanto io il ferro non lo troverò mai! No! Stai qui! Non morire fuori dal mondo! Mi serve la tua lana, pecora! Ok! Beh, uno! Un secchio d'acqua addirittura! E che ci faccio? E uno di lava! Ah! Beh! È ovvio cosa ci posso fare, no? La marmellata! No, ci faccio il generatore di cobblestone! Ma a cosa mi serve il generatore di cobblestone se io ho i blocchi qua infiniti? Ne scavo un milione e ne escono un milione! No! Ah, c'era un altro secchio di lava? Fantastico! Allora, andiamo avanti! Cerchiamo di creare una specie di isolotto! Dai, un isolotto iniziale ci sta! E ci facciamo anche una crafting table così mettiamo a cucinare questo cibo! Non è molto! Però è del cibo onesto! Cioè, potrei utilizzare la lava, ma sarebbe un po' sprecato utilizzare della lava per un coso di cibo soltanto! No! Il brutto delle skyblock è proprio questo! Che piazzo in blocco lo devi rompere e lo perdi per sempre! Cioè, non lo rivedrò mai più io quel blocco! Vi rendete conto? Un altro secchio d'acqua! Fantastico! Allora, io sono un maestro nel fare i generatori di cobblestone! Quindi per me sarà facilissimo crearne uno! Pa! 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 Togliamo questo! Ora uno qua! Uno qua! E adesso si va di... No, fermi! Togliamo l'acqua! Oh cavolo, lo starò facendo bene! Uno! E... No! Mettiamo prima la lava! E poi l'acqua! Eh? No, 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 no! Perché? Dovevo mettere più spazio! E ora come faccio a rompere questo blocco? Non lo posso rompere! Resterà lì per sempre! Mannaggia! Ehm... Ah! Ok! Meno male che ero un maestro! Senti un po', eh! Facciamo le cose fatte per bene! Oh! Oh, che paura! Ma che cavolo me ne faccio di un orso polare? Vai giù! Ok! Dopo aver scavato 40 milioni di blocchi direi che possiamo fare così! Creiamo una piccola piattaforma per fare il nostro generatore di cobblestone che sarà utilissimo! E lo voglio fare in ossidiana! Quindi si devono incontrare acqua e lava qui! Quindi così! Quindi io adesso metto la mia acqua qui e la mia lava qua! E tecnicamente... No, 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 no! Fermo! Vai! Ok! Ora! Oh! Adesso ci siamo! No! Perché? Perché? Sto sbagliando qualcosa! Proviamo così! Forse così è meglio! Ok! Sì! Così funziona! Così funziona! C'è solo un problema! Dobbiamo tappare questo buco! No, dannazione! Mettiamo questo qua! E nulla! Dove in poi prendere... Ma com'è possibile che ogni anno mi scordo come si fanno? Cioè prima li sapevo fare, ve lo giuro, eh! Non è la prima skyblock che faccio! Ne avrò fatte almeno quattro in tutta la mia vita! E prima li sapevo fare! Sentite! Chi se ne frega del generatore di cobblestone! Tanto io ottengo abbastanza blocchi da questo coso qua! Mi dà direttamente i blocchi infiniti! Guarda, ne ho talmente tanti che posso raggiungere direttamente quell'isola! Ci scommettiamo? Come ha fatto a crearsi un blocco là? Vabbè, non faccio domande ragazzi! Non faccio domande! Chissà cosa ci troveremo là dentro! Per me o ci troviamo il ferro o addirittura i diamanti! Perché i minerali ancora non li ho visti! Devono essere da qualche parte, no? Dai che mi aspetta il mio tesoro! Muoviti! Andiamo più veloci! Ora facciamo così! Ok, che cos'è? Un mulino tipo? Sali! Facciamo così! E... Uh! Cosa? Libro potenza 5! E due uova di zombo! Ma che cavolo ci faccio con gli zombie? No, ma ragazzi è pieno! Guardate quanti ce ne sono! Voglio andare di là! Voglio andare di là! Per forza! Cos'è? Pensavate che io mi sarei fermato veramente? No! Tanto c'ho pure un zocchio d'acqua così almeno posso scendere senza troppi problemi! Perché sento degli zombie? Cosa ci sarà mai in quella casa mongolfiera volante? Secondo me ci sono i diamanti! Cioè perché se mi ha dato un libro potenza 4 vuol dire che ci sono veramente robe super potenti! Io le voglio esplorare tutte! Dai! Salto? No ma che salto? Io sono matto! Facciamo così! Ok! Ora salto! Un saccheggio 3! Ma perché le uova di zombie? Che cavolo ci faccio? Eh! Che vuoi? Che vuoi? Vai via! Ah per la carne di zombie! Wow! Utilissima! E guardate! 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 Oh! Vabbè un campione! Dai chi sono? Scusate! Dream! Eh? Guardate! Guardate! Eh! Non guardate che è meglio! Ok! Molto bene! Quindi a quanto pare ci sono tanti isolotti a sorpresa! Io non so più fare un generatore di cobblestone! E questo potrebbe diventare una nuova serie! Tutto sta a voi ragazzi! Se lasciate tantissimi mi piace a questo video! Mi raccomando eh! Lasciatene tanti! Così andiamo a esplorare tutte quante le isole volanti! Tutte queste case volanti! E vediamo che cosa fare! E vi prego! Spiegatemi di nuovo nei commenti come creare un generatore di cobblestone! Non è possibile che ogni anno io me lo debba scordare! Non mi ricordo più come si fa! È sbaglio! Come uno stupido! Come un imbecille! Beh! Se non altro abbiamo già un bel po' di cobblestone! Che quasi quasi metterei a cucinare! Con della lava! Che dura di più! Per creare le slab! Perché questo è sempre il primo consiglio che mi date! Quando provo a iniziare una nuova skyblock! Mi dite sempre! Fai le slab! Che così usi meno blocchi! E ti puoi espandere di più! E quindi lo farò! Io però adesso sono curioso di vedere che cosa si trova nelle altre ceste! Perché se di là ci ho trovato dei libri super potenti! Vuoi che qui non ci riesca a trovare! Non lo so! Una spada in diamante! Un'armatura! Un piccone in diamante! Che mi farebbe comodo per rompere quell'ossidiana per esempio! Allora! Ci saranno uovo di zombie! No! Due libri! Infinito! Uno è riparazione! Aspetta! Riparazione cosa sarebbe? Mending? No! Quello è ripristino! Cos'è riparazione? Cos'è? Un nuovo libro di Bedrock Edition? Riparazione! Mending si chiama ripristino! Mica riparazione! Ce l'ho degli altri blocchi? Oh cavolo! Ne ho pochi! Potrei utilizzare le ceste in realtà! Vediamo! Avete mai visto un ponte fatto di ceste? Beh oggi si! Facciamo così! E ora così! Splash! Grazie! Oh mio Dio! Due mele d'oro incantate e pozioni di esperienza! Sì allora che cosa c'è in quella? Beh ragazzi! Se non l'avete ancora capito! Queste ceste sono fenomenali! Io vi invito a lasciare un mi piace a questo video! Se volete vedere una serie! Dal vostro Kendall è tutto! E noi ci vediamo domani con un prossimo video! Ciao!